Novella 29 Adelame e Adelasia raccontata da Ferdinando Giovannini Sarto Adelame gli era un cavalieri a servizio di un re e l'Adelasia gli era la figliola unica e bellissima di questo medesimo re. Si sa che i cavalieri usano di fare una settimana per uno a stare negli appartamenti reali e al lato del re, sicché dunque Adelame nel praticare il palazzo vede spesso l'Adelasia e finì col diventarne innamorato e l'Adelasia di lui. Ma però loro all'amore facevano di niscosto perché Adelame non era di sangue regio. Il re non ne sapeva niente di questi amori e ci furono di quelli della corte che per invidia o che so io gliel'andorno a ridire. Lui però non ci voleva credere, ma gli messano tante prove nelle mani che bisognò che per forza ci credessi. Che ti fa il re? Chiama l'Adelasia e gli dice Io so che te discorri con Adelame, dice lei. Che non è vero signor padre, ha rispose il re. Eh, di quel che dico io ne sono sicuro e non vale negare. Dunque con Adelame io non voglio che te ci discorra e se te seguiti lui l'esilio dal regno e te ti serro dentro una torre. Ha tu capito? Passa qualche tempo e Adelame seguitava a discorrere con l'Adelasia di niscosto perché egli rinusciva a farla pulita. Ma un giorno che si trovorono assieme in un boschetto del giardino furono visti da un servitore del re che lesto diviato corse dal re a fargli pippo e gli disse Venga maestà, la sua figliola stai nel giardino con Adelame. Il re subito andette con le guardie e sorprese quei due che non se l'aspettavano e scramò Cavalieri, tempo tre giorni a non uscire da questo regno. Pena la testa se disubbidite o ci ritornate più mai. In quanto poi a voi, figliola disubbidiente, andrete carcerata di entro la torre e a mi volontà. La ragazza fu menata via senza indugio dalle guardie e la serrornò in nella torre, a dove c'era una bella camera tutta mobiliata da regina e con una sola finestra di molto alta da terra. In camera non ci potevano entrare nessuno e anche da mangiare tutto quello che bramava alla figliola del re glielo devano per la rota. Il Cavalieri Adelame dovette in frattanto, poi ero disgraziato, sortire dal giardino senza ne manco dire addio alla sua Adelasia. Nesci poi dalla città per andarsene fuori di stato e, cammina cammina, arriva a una campagna in dove c'erano di molti contadini a vangare. Dice Adelame Quale di voi vuole mutare i su vestimenti con mia? Si farà a baratto. Io, io, dicevano tutti assieme perché non gli pareva vero di fare quello scambio, dice Adelame. Adagio, il baratto io lo farò con quello che ha dei vestiti che mi tornano addosso. Di fatto si mutò il suo vestito da cavalieri con un contadinotto che aveva il su li stesso personale e, messosi a quel modo alla contadina, che non pareva più lui, seguitò a camminare di molti giorni, insintanto che perviense a un'altra città fora dello stato del suo rettiranno. Guà, non è ne cosa nuova, dappertutto le città ci si scontrano degli uomini che fanno il mestieri, come sarebbe a dire, di mezzano, ovvero sia di sensale a trovare impieghi a chi ne vuole. Sicché un di questi uomini, quando vede Adelame girottolare quella per le strade e per le piazze, e si accorgette che lui era forastiero, gli si accostò e gli disse «Oe, quel giovane che vi mancherebbe un impiego, i son buono a trovarvelo se vi garba», ha rispose Adelame. «E non mi farrebbe vero, appunto i son disoccupato», dice il mezzano. «E che sapete voi fare?» «Di tutto», dice Adelame, dice il mezzano. «Bene, bene, c'è appunto una signora che gli manca l'ortolano e i giardinieri, e forse lei sarebbe contenta di avervi al suo servizio. Ora voi subito a sentirla, e voi aspettatemi qui». Il mezzano va, picchia, e lo fanno passare dalla signora, e per non la rendere tanto stucca, i dirò che presto si trovorno d'accordo di pigliare Adelame al suo servizio. Dunque, anche Adelame andiede da quella signora a presentarsi, e lei appena lo vede gli domandò «Come vi chiamate?» dice Adelame. «I mi chiamo Antonio», perché il suo vero nome non glielo volse manifestare per non essere scoperto. «E quanto volete voi di salario a farmi da ortolano e da giardinieri?» gli domandò la signora, e lui rispose. «In quanto al salario lei prima mi provi per un mese, e io proverò lei, e dopo, se si resta contenti tutta a due, combineremo che non ci sarà nulla da ridire». «Sì, sì, come vi garba?» dice la signora. «Poi dalla mancia al mezzano e meno Antonio, ovvero sia Adelame, che si era appiccico con il soprannome, nell'orto e giardino. Che frasconaia! Pareva un serpaio, tanto gli era trascurato e tutto in disordine. Adelame ci si mettiede con l'arco della stiena, e tanto lavorò che in pochi giorni il terreno e le piante era una maraviglia a vederle. E in capo a tre settimane ci raccoglie di molta roba prematiccia, come insalate, cedri, limoni e fiori della stagione. Adelame pigliò ogni cosa e andiede dalla padrona e gli disse «Se lei me lo permette, i vuoi a vendere in campagna tutte queste delizie?» dice la signora. «Va, vai pure!» Dunque Adelame, con un corbello e dentro la sua mercanzia, nesci fuori a delle porte in campagna, e a cinque o sei miglia di distanza trovò un paese, e lì ci vendete tutto. E col corbello vuoto ritornò a casa e si presenta alla signora. «Padrona, deco i quattrini che ho preso della vendita!» e gli mette in mano una ventina di lire. La signora rimanè. Lei non aveva marecavo nulla da quel terreno, sicché a quella vista scramò «Bravo! Io sono proprio contenta di te! E però io ho deliberato di darti questo salario. Lire trenta al mese è tutto spesato. Che te ne pare?» dice Antonio. «Io per me sono più che contento!» Passano dei giorni e l'orto e il giardino prosperavano a vista d'occhio, sicché Antonio va dalla padrona e gli dice «Senta, io addosso non ce la posso portare di molta roba e ce n'averei una gran quantità da vendere e da pigliarci i quattrini al doppio. Se lei me lo permette, gli compererò un ciuchino da mettergli la soma e un due ceste, una di qua e una di là del basto. Gli potrei caricarlo a mio modo», dice la signora. «Fa pure!» Antonio dunque comperò un ciucho piccino e gli accomidò la ceste al basto che poi ripienò ad ogni ben di Dio e ci aggiunse anche un bel mazzo di fiori. Dopo sortì al solito fora delle porte della città e camminò di molti giorni insieme a che viense a ne entrare in nello stato del re e, diviato, se ne andiede alla sua propria città nativa e lì comincia a urlare. «Ortolano! Eeeh, chi vole di becavoli, pera, limoni, primaticci e dunicosa un po'?» A quel bocio la gente corriva da tutte le parti e chi voleva una cosa e chi un'altra. Quando Antonio fu in sulla piazza del Palazzo Reale, lì sì che svergolava, sì che a quegli urli «D'ecco tiancò il coco del re», che in senza tanti discorsi prese tutto il carico. Dice Antonio. «E lei chi è? Deve essere un gran signore». Arrisponde il coco. «Chei sono il coco del re», dice Antonio facendo l'ognorante. «Del re? Chi è nel re? Che vuole dire un re?» Scrama il coco. «Senti che domande. Il re gli è quello che comanda tutto lo Stato e abita in quel palazzo?» Dice Antonio. «Come? In quel palazzo con tutte quelle finestre lui ci sta solo?» Dice il coco. «Già, ci sta lui solo. Lui per codesto avrebbe anche una figliola, ma siccome lei faceva l'amore di niscosto con un cavalieri che non era di par suo, il re su padre l'ha serrata in una torre e non si pole né vederla né parlargli». Scrama Antonio. «Poera ragazza, con che animo lei starà lassù dietro serrata?» «Figuratevi!» Arrispose il coco, dice Antonio. «Tienga, gli voglio dare questo bel mazzo di fiori a lei che accompero tanta roba. Guà, se crede lo mandi a quella sventurata». «Eh, questo si potrà anche fare», disse il coco. «Dunque addio». «Addio e arrivederci!» Arrispose Antonio e ognuno se ne andiede per i suversi. Adelame aveva intanto saputo a così che l'Adelasia gli era sempre viva e carcerata dietro la torre. Al ritornato Adelame o Antonio che ora si voglia sopracchiamare alla sua padrona, lui gli proffersi un monte di quattrini della roba venduta e figuratevi se quella signora gli steva allegra. Dice Antonio. «Padrona, le vendite vanno bene, ma io ho bisogno di caricarti vantaggio. Se lei me lo permette, scambio del ciucco, compro un cavallino e un barroccino e lei vederà poi quanti maquattrini gli porto», dice la signora. «Sì, sì, son contenta, fa come ti pare». Antonio dunque vendiai del ciucco e comprò il cavallino con il suo barroccino e quando ebbe da caricarlo di roba proprio buona e avvistata ve la mette sopra assieme a un bel mazzo di fiori, mattoghi e appariscenti per regalargli al solito coco. Poi rifece la strada di prima e dopo di molti giorni decco te lo dà capo nella sua città dinanzi al Palazzo Reale. Il coco del re a male brighe lo vede Antonio subito orse per compere e gli pigliò tutta la roba, dice Antonio. «Questo gli è un altro mazzo per lei ma gli harai bisogno di un consiglio e di un aiuto», dice il coco. «In quel che posso io vi servirò», dice Antonio. «Fora della porta io riscontro una poera donna inferma che voleva venire al Palazzo Reale a presentare da sé un disteso perché il suo marito deve essere condannato e lei chiede la grazia alla figliola del re». «La piagneva questa donna che non si poteva muovere e mi ha supplicato tanto che gli facessi ricapitare questa lettera sigillata alla figliola del re. Come dunque si può le contentarla?» Arrisponde il coco. «Sentite, gli è di molto difficile. Il re gli ha proibito di parlargli alla sua figliola e poi in camera e non ci si può le ne entrare». Dice Antonio. «Se si potessi trovare un ripiego quella donna mi ha detto che mi darà la mancia si rinusco. Io la mancia la do a voi, quella che mi ha impromesso la donna e poi ve ne aggiungo un'altra di mio se vo fate ricapitare questa lettera alla figliola del re». Dice il coco. «Non c'è altro che la metta tra piatti del desinare che gli si danno attraverso la rota». Dice Antonio. «Fate come vo credete più o meglio ma io ho bisogno della risposta. Se dunque la lettera sigillata ritorna con la soprascritta «Graziata» allora vo me la porterete e io vi do la mancia. «Domani alla lì stessora i sarò giù di qui per la piazza». D'accordo dunque pigliò il coco con la lettera e la niscose tra mezzo a piatti del desinare che era destinato per la figliola del re siccome lui avea impromesso Antonio e dietro la lettera ci diceva «Adelame vuole sempre bene alla Delasia e se la Delasia è sempre del medesimo sentimento Adelame intende menarla via con seco se lei accore di calarsi dalla finestra della torre». Quando questo gli garbi alla Delasia scriva «Graziata» in sulla sopraccarta e la rimandi e domani a mezzanotte Adelame sarà sotto la torre a ricevere la sua Delasia figuratevi i pensieri della Delasia quando lei lesse questo foglio lei deliberò subito di scappare e scrisse «Graziata» in sulla lettera e poi la rimettì ai dei trapiatti e in frattanto fece i su preparativi per calarsi giù dalla finestra della torre tagliò le lenzole a strisce le annodò capo per capo e a così gli sciviense una bella fune lunga che arrivava insieme a piede della prigione il coco poi avuto a mano la lettera il giorno dopo la diede in piazza a Adelame o Antonio per finto nome e dice «D'eccovi l'Antonimo il vostro il vostro disteso» risponde Antonio «Oh che c'è gli scritto soppresso leggetemelo via di grazia che non so leggere» ma non era vero che lui non sapeva leggere lo faceva per furbizia ed ignorante dice il coco «Quà e ce n'è scritto graziata» «Davvero» scrama Antonio «Datemela la lettera e che Dio ve ne rimeriti e in frattanto deccovi di mancia questo zecchino da me per il vostro incomido poi avrete la mancia che mi han promesso anche quella donna addio addio non istiede a perder tempo Antonio ma va diviato in un chiassettolo e apre la lettera e vede che l'Adelasia consentiva tutto e lui non poteva stare alle mosse che vienisse la mezzanotte quando poi la mezzanotte sonò Antonio e da ora in là è meglio ridargli il suo vero nome Adelame steva già sotto la finestra della torre a aspettare ed ecco prima cala da quella una cassettina tutta piena di gioie e quattrini e con diversi panni dell'Adelasia poi si scondolò giù anche lei sicché Adelame la riceve tra le sue proprie braccia e l'esti se n'andorno alla stalla a dove è attaccato il barrocino da Ortolano vi montorno in fretta e sortirno fora della città e cammina cammina vi ensano a giorno alla spiaggia del mare qui Adelame lassò di bandonato cavallo e legno e vista una barchetta ci saltò dietro con l'Adelasia e la sua cassina e a forza di remi e di vele fuggirno a più non posso ma dopo un pezzo che loro erano un mare d'Eccoti Principia una fiera burrasca sicché quei poi rinnamorati gli ebban di catti se furono spinti a un luogo deserto che non ci si vedeva un'anima viva sbarcano e Adelame presa con seco addosso la cassina assieme all'Adelasia si dirizzorno in verso un bosco folto che ricopriva tutta una montagna e sali sali gli era già buio fitto e non sapevano ne manco a dove loro mettevano i piedi e a dove gli spigneva la fortuna a un tratto gli parse di scorgere un lume da lontano e si avviò orno per laggiù e dopo un po' di tempo arrivano a una capanna di frasche che dietro c'era un'eremita vecchio in ginocchioni a fare orazione e con una barba bianca lunga lunga che gli scendeva in sul petto dice Adelame abbiate padrino la finezza di ricoverarci questa notte non siamo dos marriti e non si sa in dove battere il capo alza gli occhi l'eremita a quelle parole e guarda Adelame e Adelasia e poi scrama Siaurati che avetevo fatto rimasero sbalorditi i due amanti e come di sasso nel sentire un simile saluto ma l'eremita seguite a dire Siaurati vo siete in peccato vo avete trasgredito alla legge umana e alla legge divina alla legge umana perché disubbidisti al padre e al re e sappiate che il re vi fa cercare dappertutto per darvi la pena di morte alla legge divina perché vo siete assieme in senza essere moglie e marito quei due allora tutti impauriti gli si buttano a piedi e lì a scongiurarlo l'eremita che gli ai tasse in qualche mo che oramai il male gli era fatto e non c'era più rimedio dice l'eremita ma che veramente volete voi essere sposi risposano assieme si si sposi e per sempre ebbene dice l'eremita i vi sposerò io e per questa notte i vi darò il ricovero ma domani bisogna che andiate via perché qui con me vo non ci potete stare allora l'eremita gli sposò e li benedisse e gli mettiede a dormire su delle foglie in un canto della capanna e quando poi fu giorno ad Elam e la Delasia dovettano dilontanarsi dopo ricevuta un'altra nuova benedizione dall'eremita ora gli è tempo di sapere che in frattanto al palazzo reale gli era niti a portare da culizione alla rota della camera della Delasia ma la culizione e vera sempre lì ferma al momento del desinare impauriti i servitori vanno subito dal re e gli raccontano quel che è successo a questa nuova il re ordinò che la camera sapra per vedere se la sua figliola ha male ne entrati però dietro tutti si accorgono che la ragazza gli è scappata via e che non c'è più Nimo figuratevi il re montò sulle furie che pareva un cane arrabbiato perché lui capì che la Delasia gliel'aveva menata con seco a Delame sicché mandò soldati per ogni logo dello stato a cercarne e mettiede fora un bando che gli fossero riportati quei due o morti o vivi non gli importava tanto lui gli voleva in ogni modo ammazzati dunque a male brighe che a Delame e la Delasia seppano del bando e nella capanna dell'eremita vadorno di scansare i confini dello stato del re e seguì torno a camminare di molti giorni campando alla meglio con il vendere le robe dell'Adelasia e dormivano per le capanne fino a che si trovò orno da ultimo in un luogo salvatico e deserto in vetta a un monte che pianeggiava in sul cucuzzo lì risolverono di fermarsi a Delame ci rizzò una capanna e scoperto che a qualche miglio più giù nella vallata c'era un paesuccio si mettiede a tagliare legne e a far carbone e poi scendeva a venderlo per comprarci il necessario al campamento da più mesi oramai quegli sposi abitavano su quel monte quando la Delasia si accorge di essere gravida e al suo tempo parturì un bel mastio e se lo battezzorno con le proprie mani e li messa a nome Germano e Germano cresceva a vista d'occhio vispolo e giudizioso e quando fu negli otto anni il subabbo se lo menava con seco al bosco e poi col carico delle legne o con le valle del carbone a vendere unicosa al paesuccio arrivò a diciotto anni e lo mandava anco solo dice un giorno Germano babbo perché non comperate un ciucco per portare la soma si durerebbe meno fatica e si potrebbe anche fare un carico più grosso dice a Delame compriamolo pure e a così comprorne un ciuccarello di poca spesa e con quello scendevano a vendere nel paesuccio un giorno Germano col ciucco carico se ne andiede da sé solo al paesuccio e a un tratto incontra un uomo che aveva in mano una gabbia con dietro un uccellino raro a Germano gli viense voglia di quell'uccellino sicché dice galant'uomo che me lo venderesti con questo uccellino magari quell'uomo gli ha rispose oh quanto ne volete oh si fallesti gli vuoi il ciucco con tutto il carico d'accordo scrama Germano e gli dà il ciucco con tutto il carico e piglia in scambio l'uccellino con la gabbia poi è ritorna diviato a casa quando la sua mamma lo vede disse oh del ciucco che ne ha tuffato a dov'è dice Germano badate gli ho barattato la soma e tutto con un uomo e lui mi ha dato in scambio questo bell'uccellino in gabbia oh sciaurato scramò la delasia quando torna il babbo dal bosco e sai il tuo perato t'ammazza di sicuro Germano a quelle parole della sua mamma si impaurì sicché lassata la gabbia con l'uccellino ne sci dalla capanna e via alla ventura a dove lo portavano i piedi ma la delasia credeva che lui fu sito a riscontrare suo padre decotin sulle ventiquattro viene a delame e la delasia gli domanda Germano ha dovelato un lasso e non l'ho visto da stamane in qua gli ha rispose a delame oh povera me scramò la delasia a dove sarà ito mai e l'ho gridato un po' perché lui ha dato un baratto di quest'uccellino in gabbia il ciucco col carico e tutto e gli ho detto che se te tornavi te l'aresti ammazzato di sicuro e lui allora è fuggito e gli credevo che fossi venuto a riscontrarti oh mescia urata a dove sarà ito il mio figliolo dice a delame vedi tu ha fatto male a dirgli quelle parole e a rimbrontorarlo lui ha operato secondo il suo sangue ha operato dal re a benché lui non sabbia che è di stirpe reale insomma aspetta aspetta Germano non lo vedano più e sarà battorno inutile a ricercarne e a domandarne per i contorni erano quei dupoi i rigenitori disperati a morte figuratevi ma lassamo a delame e la delasia fra mezzo a pianti e alla scherezza e si va da rieto a Germano lui camminò di molti mesi e campava in sulle limosine e finalmente arrivò in senza saperlo alla città del re su nonno e siccome gli era vestito tutto con la pelle di bestia salvatica e pareva una stranezza tutta la gente gli si faceva d'attorno per conoscere chi era e da che paesi vieniva se era solo oppuramente se lui aveva il babbo e la mamma lui rispondeva sì e no secondo i casi ma non potete dire mai da che paese lui era vienuto con tutto questo fracasso di popolo Germano arriva in sulla piazza del palazzo reale che appunto il re steva alla finestra e quando vede la raunata mandò subito un servitore a sentire quel che era successo dice il servitore maestalia un giovanotto forastiero tutto vestito di pelli e gli fanno mille domande e lui risponde pronto che non si sgomenta dice il re fatelo salire su chi lo vuo vedere gli vuo parlare il servitore ubbidiente va e chiama Germano e lo fa salire alla presenza del re e il re gli disse chi sei e da dove vieni il babbo la mamma li hai e loro che mestieri fanno dice Germano i sono figliolo di tu boscaioli ma il nome di loro io non lo so non l'ho mai sentuto a ricordare io mi chiamo Germano e i sono figliolo unico e son fuggito da casa e cammina cammina mi sono sperso non so ne manco in che paese io ero dice il re vuoi stare al mio servizio dice Germano sì volentieri perché fino a ora io ho campato con la limosina a far la corte Germano fu messo per mozzo di stalla e dopo qualche mese lui passò aiuto del coco poi diviense credenzieri di corte e il re gli deva un buon salario ma lui ci sarà annoiato lì e un giorno disse al re senta maestà i me ne vuoi ire perché a servire a così mi annoio dice il re ma come mai eppure i ti do un buon salario e non ti manca nulla tant'è risponde Germano che vuole io non posso durarla questo mo' dice il re ma che faresti volentieri qualche altra arte dice Germano per dire il vero mi garberebbe la vita del militare dice il re io ho da accontentarti a tuo piacimento ne entra nell'esercito e addio dunque Germano ne entrò soldato comune nell'esercito e in pochi anni diviense maggiore e quando fu maggiore un giorno il re lo fa chiamare e gli domanda dimmi un po' Germano ma che a tu genitori non ci pensi mai non tegli ma è venuto un capo di ricercarli altro maestà gli hai il pensieri mio d'ogni momento ha rispose Germano ma io non so che strada prendere per ritrovargli questi miei genitori dice il re piglia quel che t'ha bisogna e va a vedere se tu li trovi e se tu li trovi mena meglio qui Germano dunque avuto il permesso del re trascelse a su fido compagno un vecchio capitano e tutt'adua montati a cavallo sortirno per tempo la mattina dalla città dice il capitano ma si è sicuro Germano che questa è la porta da dove la prima volta tenne entrasti in questa medesima città sì sì ne sono sicuro e non mi sbaglio di certo gli ha rispose Germano camminorno di molto tempo de mesi e finalmente Germano e il suo compagno arrivano a un luogo deserto e salvatico a piedi di una montagna e non c'erano viottoli per rinuscire su sì che dice il capitano a me mi pare che te scambi la strada o non vedi che non c'è modo di rampicarsi per il bosco e poi non siamo proprio per un deserto salvatico dice Germano a bene che da tanto tempo e tavia mi pare che questi sono i posti che attraversai nel fuggire da casa dice il capitano guà e sarà ma i dico che te ha scambiato Germano in un istante principiò a salire su per il monte e il capitano gli andeva dretto alla meglio e sali sali arrivò non vetta scrama Germano deccoli sono proprio i miei posti e la capanna dei miei genitori decola in fondo laggiù in questa spianata la delasia in quel mentre era lì a raccattare delle foglie e quando vede quei due soldati si sconturbò tutta perché lei credeva che fussano vienuti per arrestarla e gli parse proprio di scorgere tutta l'effigie del subabbo e impaurita corse dietro alla capanna ne serrò l'uscio in furia e cadette stramortita per le terre Germano che aveva ricognosciuto su ma gli si mettia di attacchi con il cavallo al trotto e di fuori urlava mamma mamma io sono io sono il vostro figliolo Germano che non mi riconoscete aprite e non avete paura ma quella che lì svienuta non rispondeva sì che Germano con un calcio buttò giù l'uscio e prendette la delasia tra le braccia e badava a chiamarla e a dirgli che la stasse di buon animo e che lui gli era il suo figliolo la delasia finalmente soccallò gli occhi e guardava ben bene Germano e poi disse sì ti riconosco ma tu m'ha tradito dice Germano perdonatemi ora io sono qui da voi per condurvi dal re assieme col babbo e la delasia piagnendo lo vedi sì lo dico che tu m'ha tradito in questo mentre decco ti anco a delame che ritornava dal bosco e nel vedere quei soldati anco lui si credette che fossero venuti lì per arrestarlo sicché si buttò in ginocchioni a domandare pietà per lui e per la moglie ora bisogna sapere che quel capitano vecchio gli era stato padrino della delasia e nel sentire tutte quelle stranezze finì con riconoscerla e rimanè quando si accorgette che Germano gli era figliolo di Adelame e della delasia e però nipote del su re dunque ne entrò di mezzo anche lui e si manifestò e fece tanto che Adelame e la delasia s'addomestichirno e la paura principiò a andargli via d'addosso e anzi si la sorno per su adere a tornare tutti alla città dal re e messo assieme la po' di roba di valzente tenute nella capanna la brigata s'avviò al suo destino arrivi che furno il capitano dapprima fece n'entrare Adelame e la delasia in nel palazzo reale per una scala segreta e gli mettiede in una camera in disparte poi con Germano si presentò al re dice il re bentornati che gli avete scoperti i genitori di Germano non me li avete menati come ordinai dice Germano trovati i li ho ma che vuole maestà loro sono gente avvezza al bosco e mezzo salvatichi e non son volsuti venire con Meco male male avete fatto di molto male a non gli condurre con voi scramò il re mezzo scorrucciato dice il capitano senta maestà il vero è che quei due sono venuti con noi ma io non glieli presento davvero se prima lei non mi concede una grazia della vita di tre persone dice il re maravigliato che domanda è ora questa e il capitano a lei maestà non gli costa nulla questa grazia e me la può le fare addirittura dice il re ebbene in vista che voi siete il più vecchio dei miei ufficiali la grazia è concessa scusi ve maestà dice il capitano ma lei mi deve anche giurare sulla sua corona che la impromessa lei me la mantierrà a ogni patto al re gli parse un po' ostica questa prutenzione del suo capitano ma per non contraddirlo giurò come volse lui allora il capitano fecene entrare a delame con la delasia e loro si buttorono a piedi del re a chiedere perdono ma quando il re gli ricognobbe tutto incattivito sbergolò bricconi ci siete capitati nelle mimane ora poi sarà il tempo delle mie vendette tira fora nel dire così la spada e va per ammazzare la delasia per la prima germano che vede quel furore non può tiedere a tenersi e anche lui cava la spada e la punta al petto del re se non si ferma su maestà e mi vuole ammazzare la mamma io in scambio ammazzerò lui in quel mentre il capitano gli aveva a guanto il braccio del re e gli disse su maestà se ricordi del giuramento e poi ripensi che questo gli è suo sangue e che germano è suo nipote e unico erede che lei ha al re a poco per volta gli sfumorno le furie e sentuto che germano era figliolo legittimo della delasia e di adelame e quanti stenti e patimenti avevano loro sofferto per tant'anni finì con perdonargli e rimettergli nelle sue buone grazie sicché se ne stiedero loro con il re e morto lui germano diviense padrone dello stato e così termina la novella ditene se vi pare una più bella grazie a tutti Grazie a tutti.